La Toscana torna in zona arancione e il presidente della regione toscana Eugenio Giani ha firmato un'ordinanza per regolamentare e chiarire quali sono gli spostamenti e le attività consentite a partire dal 6 dicembre. Per quanto riguarda gli spostamenti è consentita la mobilità in un comune diverso da quello di residenza con autocertificazione nei comuni limitrofi per acquistare prodotti necessari alle proprie esigenze per maggiore convenienza economica ma anche per accedere ai ristoranti con asporto per usufruire di attività come carrozzieri, parrucchieri ed estetisti, per andare a trovare figli che vivono dall'altro genitore, per curare terreni e orti, per le attività di raccolta tartufi e funghi a titolo professionale ma anche per accudire gli animali allevati. Per quanto riguarda le attività riaprono anche i centri estetici, si può tornare a caccia ma nel proprio ATC di residenza e a pesca nella provincia di residenza in forma individuale. Per lo sport le attività sportive e motorie di base presso centri sportivi possono essere svolte all'aperto. Per quanto riguarda le attività sportive e motorie di attività sportive e motorie di attività sportive e motorie di attività sportive.